... Abruzzo nel cuore, Nawahim, uno accanto all'altro, poi Cabestus, Oracle Force all'esterno, pensiero debole, tanti hanno accettato la partenza, avuta fuori una bella frazione, Oracle Force che prova a sfondare su Cabestus, dietro i due, pensiero debole che si sistema lì, avanti a My Solitaire, tra i due, Amedeo di Bremi, i cinque hanno accelerato, Abruzzo nel cuore, Nawahim e Continuity, Oracle Force tende a sfondare in curva su Cabestus, pensiero debole, My Solitaire, Amedeo, Abruzzo, Nawahim in coda, Continuity, quando si entra ora in dirittura. Cabestus e Oracle Force hanno in seconda linea, Abruzzo nel cuore, con all'esterno, My Solitaire, cerca il barco, pensiero debole in mezzo alla pista, con Oracle Force attaccata all'interno da Cabestus, all'esterno, My Solitaire, Amedeo di Bremi, pensiero debole, lottano in cinque, con Oracle Force, Cabestus, pensiero debole, poi Amedeo e My Solitaire, con Amedeo che scatta all'esterno, fanno un po' accavallate, Cabestus è in vantaggio, Cabestus, Oracle Force, Cabestus, Oracle Force, e poi Amedeo e pensiero debole. Cabestus, che va a vincere per il secondo, terzo e quarto, Oracle Force, sette, quattro, sette, è suonata la sirena, quattro, sette e poi cinque, tre, quattro, sette, cinque, tre, c'è intervento, autorità, per il momento della postazione centrale.